Un summit fra Regione Marche, Camera di Commercio e le associazioni di categoria del settore del legno e dell'arredo della provincia di Pesaro Urbino. Questa mattina, nella sede Montelabattese di Cosmov, quartier generale dello sviluppo tecnologico di impresa, si sono accesi i riflettori sui due bandi regionali in cui l'assessorato allo sviluppo di Mirko Carloni, dallo scorso giugno, ha voluto costruire due pilastri al rilancio della competitività industriale. I bandi in termini di filiere ed ecosistemi e quello sugli investimenti produttivi che scadono il 30 settembre e che rappresentano un importante stimolo allo sviluppo del legno arredo in un contesto geopolitico molto complesso. Abbiamo presentato due pilastri che sono state due leggi e poi due bandi. Quello sugli investimenti per rafforzare tutta la parte degli investimenti costruttivi, ampliamento, ristrutturazione oppure riutilizzo di capalloni abbandonati e poi quello delle filiere che è il cuore pulsante della nostra strategia. Qui oggi c'era una fetta importante della produzione della nostra provincia, della città di Pesaro, dell'entroterra legata ad esempio al mobile. Io credo che questo bando nella sua visione di rafforzare il trasferimento tecnologico, l'innovazione di prodotto, di processo produttivo per il mobile può essere molto importante. Anche per il contoterzismo che può strutturarsi meglio e avere in condivisione degli investimenti che lo rendano più forte e più competitivo sui mercati. Quindi io mi auguro che da qui, da oggi, dal Cosmo di Pesaro, dalla Camera di Commercio qui a Pesaro, possa nascere un progetto di filiera molto più strutturato e che rafforzi il nostro sistema produttivo che oggi scontra di grandi difficoltà, ma solo rafforzandosi può superare quelle che arriveranno purtroppo. Sono 2.623 le imprese del settore mobile arredo marchigiane. Di queste la stragrande maggioranza, ovvero 1.288, sono in provincia di Pesaro con oltre 116 milioni di euro come valore dell'export nel primo trimestre 2022. Va da sé che ragionare di filiera rappresenta il salto di qualità per una strategia di sistema. Consiste in un sistema dove almeno tre aziende, anche microimprese, si organizzano per fare degli investimenti condivisi. Possono essere logistici, informatici, tecnologici, oppure per fare quelli beni immateriali, la ricerca, i laboratori, ricerca sui materiali e certificazione dei prodotti, marketing, gestione dei clienti, data center, tutte quelle cose che possono rendere anche le microimprese competitive sul mercato ma che non hanno magari la forza di farle insieme oppure la cui utilità fatta in modo individuale rischia di pesare troppo sui conti dell'azienda. Facendoli in filiera, cioè facendoli insieme, rendono l'azienda più competitiva ma al tempo stesso rafforzano un sistema e non una sola azienda. Inoltre c'è il vantaggio del rating di filiera perché se una vera e propria filiera costituita che ha un finanziamento per gli investimenti che vuole fare si presenta alle banche con un rating di filiera certamente ottiene anche migliore accesso al credito. Carloni ha anche rimarcato la strategia a monte della stesura dei bandi come il punto di discontinuità rispetto al passato. Noi abbiamo individuato in 8 o 9 leggi tutta la visione dell'economia e dello sviluppo economico. Fatta questa visione strategica abbiamo calato i bandi e quindi le aziende sanno dove la Regione vuole andare e dove insieme alla Camera di Commercio, insieme anche ai soggetti come Cosmo, che è una società partecipata anche indirettamente dalla Regione, quali sono le ricette su cui si sta puntando, giuste o sbagliate, ma a differenza del passato oggi c'è una visione strategica.